Prima uscita pubblica per i freiheitlichen di Uli Maier e Andreas Leiter, dopo la debacle alle elezioni provinciali dello scorso ottobre che ha ridotto da 6 a 2 i consiglieri del partito autonomista su Tirolese. Questa volta la nostra sarà una opposizione costruttiva, ha spiegato Leiter, ma sull'accordo che ha portato al governo della provincia la SVP assieme alla Lega di Salvini... Noi adesso abbiamo letto il programma, è molto fumo poco arrosto e adesso dobbiamo anche guardare come lavora la Giunta, adesso abbiamo letto solo le posizioni che hanno scritte che sono, diciamo, scritte molto soft. Forse, come abbiamo fatto nella scorsa legislatura, opporsi a tutto è stato un errore politico che ci ha penalizzato, ha spiegato Lobmann Leiter, di fronte ai suoi fedelissimi e proprio per questo, se il consiglio provinciale discuterà di temi etnici e la Lega dovesse far mancare il suo appoggio, saranno i freiheitlichen a dare una mano alla SVP. Noi ad un punto abbiamo sempre avuto la posizione di guardare su tutti i tre gruppi linguistici, però anche sulla tutela della minoranza tedesca e ladina. E abbiamo anche detto all'ESVP che quando serve magari una maggioranza fuori dalla collezione, noi saremo pronti per quello. Nel frattempo, dopo il ridimensionamento del consenso elettorale e le dolorose vicende interne legate all'utilizzo dei fondi di partito... Noi adesso abbiamo avuto un anno horribilis con le elezioni 18 e con nuova forza e anche con molta motivazione adesso facciamo un riavvio e partiamo di nuovo. Ma digerita la sconfitta di ottobre, è tempo di bilanci. A breve, un nuovo congresso per la presentazione del nuovo volto del partito. Dopo le elezioni abbiamo fatto settimane e anche due mesi di analisi interne e adesso abbiamo il processo di riforme e faremo anche in primavera, faremo poi anche la giornata dove presentiamo le nostre riforme del partito.